ebbene a tutti ragazzi oggi siamo qui non su fifa finalmente ci distacchiamo un po da fifa ma siamo qui siamo sono qui in un blog questo blog è stato fatto per dirvi una cosa speciale che praticamente noi cambiamo organizzazione non è definitiva infatti volevamo sperimentarla io e il mio amico simone ci siamo scritti poco fa su whatsapp abbiamo deciso di fare questo che praticamente visto che non stiamo salendo con iscritti visualizzazioni noi abbiamo deciso di fare dei video da soli di video in coppia cioè possiamo fare tre video alla settimana in cui un video lo faccio io da solo su giochi del pc che ce l'ho proprio qui davanti un video lo fa simo con il video fifa sempre finiva sulla play 4 a casa sua e poi il terzo video della settimana e l'ultimo lo facciamo in coppia a casa di simo sempre su fifa quindi saranno due video di fifa e un video su giochi del computer o blog oppure challenge che potete dirvi dirci sotto qui in descrizione e questa sperimentazione la vogliamo fare perché appunto non stiamo bussanendo con iscritti visualizzazioni e volevamo vedere se così cambiava mi piaceva di più perché sempre fifa anche a me un po annoia vedere tutti i video del canale fifa 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 quindi magari vi portiamo clash royale sul computer tutti i giochi che vengono usati magari nel telefono che ci dite voi sotto qui nella descrizione nei commenti questo video è corto appunto è un blog non c'è simo peccato ma è sera precisamente le 9 e 40 mi è venuto di farlo adesso perché c'avevo voglia di registrare sono in crisi di assinenza di video e quindi ragazzi vi ho detto tutto quello che vuol dire mi saluta anche un giulio metto di salutarvi nel video quindi ci vediamo al prossimo video con fifa e con altri video su computer è bello bro ciao